Perché oggi Unifè è qui a Confagricoltura? Unifè è qui oggi per testimoniare la sua presenza, il suo assoluto coinvolgimento e interesse ad essere un'istituzione al sostegno del settore primario, del settore primario del nostro territorio che come sappiamo ha una storia rilevantissima, un impatto da un punto di vista economico che anche l'assessore prima ricordava, molto molto consistente per tutta l'economia. Non c'è futuro, non c'è innovazione se non c'è conoscenza, la conoscenza ci vantiamo come università pubblica di tramandarla da tanti anni all'interno dei nostri giovani, del nostro territorio per far sì che possa rendere sempre più competitivo il nostro contesto e sempre più ricco. Presente anche il Comune di Ferrara ovviamente in questa iniziativa di Confagricoltura con noi l'assessore Fornasini. Assessore si parla del valore dell'agricoltura ma anche del sostegno che il Comune dà appunto a questo settore. Sì, in questi anni a fianco delle associazioni di categoria e anche ovviamente di Confagricoltura abbiamo messo in campo molte iniziative, molti provvedimenti concreti a sostegno e a supporto di un settore che per noi è strategico, che incide moltissimo sul PIL della nostra provincia, del nostro territorio generando miliardi di euro ogni anno. Abbiamo ad esempio abbassato l'imposizione fiscale, le tasse, l'IMU in particolare sui terreni agricoli, abbiamo eliminato le tasse sui fabbricati rurali, strumentali, proprio che sostengono insomma il sistema agricolo. Quindi tante iniziative tra cui ad esempio dei bandi a favore delle imprese agricole e adesso ne stiamo già studiando insieme anche a Confagricoltura un nuovo bando proprio a favore e a supporto delle imprese agricole. Tante iniziative perché anche come Comune vogliamo fare fino in fondo e lo stiamo facendo alla nostra parte per appunto sostenere un settore come quello agricolo che in questi anni sta vivendo davvero un periodo particolarmente complesso e delicato ma che comunque deve avere una prospettiva di sviluppo e di futuro e ognuno deve fare la propria parte.